Allora intanto respiro ancora e le mie donette zoppicano di più, che quando le guardo di Tamanini passa i anni a caparteche. Allora l'altro giorno apro il giornale e vedo una bella fotografia, ma dov'è sindaco, vicesindaco, assessori e sopra è scritto l'amministrazione comunale ha fatto eccetera eccetera eccetera, allora la maggioranza sono una ventina di persone perché era i componenti di vari partiti e che cosa? Allora mi sono detto, i casi sono due, o sono cretino io, visto gli anni, arteriosclerotico ancora magari, oia c***o di oria, i casi sono due, perché quando un arcese vi viene a proporre che al Sanaclero si potrebbe fare quello che si potrebbe fare con il dottor Fontana, ma può mettervi l'arcese, chi è che lo può vedere l'arcese? voglio dire, che cosa hanno fatto? L'asilo Nidoli è ancora là che il Benzò, che aveva detto che ci avrebbe messo dentro un asilo privato e l'avrebbe appaltato, il sanatorio del clero, tutte le scuse le buone perché non le loro, non le ho gestis loro, la provincia è dove sto passo, la scuola elementare di Varignan l'è ancora lì, la scuola, la casa Bresciani, una perché l'è antisismico, poi mi salta fuori ogni tanto, di me non si può perché non è antisismico, ma il casino è antisismico? Il municipio è antisismico? Le scuole elementari sono antisismiche? mi domando e dico, oh sono veramente, e hanno, i giardini sono aremengo, perché è inutile che mi vengano a dire, sono maltenuti, viale del 24 maggio dove c'è il padre Monti, fa schifo, esodetto pazzo, attenzione del corriere, la pensilina è ancora lì, e allora cosa avete il coraggio di farvi fotografare? E l'abbiamo fatto per Arco, cosa avete fatto? Quella fare là per vederlo Arco, cos'è quella specie di balaustra per vedere giù Arco? No ragazzi, scusatemi, ma quella fotografia io non l'avrei pubblicata. No ragazzi, scusatemi, ma quella fotografia io non l'avrei pubblicata.